buongiorno a tutti dal mix siamo nuovamente a ponente dai ci riproviamo perché le notizie dagli amici sono state buone anzi in qualche caso direi ottime però il primo di giornata è questo è oggi sarà così la giornata da lumaconi va bene dai ci proviamo cosa dobbiamo fare il primo di oggi da un po mangiatino ma ci accontentiamo dai piccino mangiato rossano bello duro sto cercando i funghi in queste tagliate guardate questa tagliate qui apertissime rifatti passando visto questo dalla macchina massacrato duro duro come una pietra solo un pezzo niente ora vediamo qui cosa c'è qualcosa vediamo in queste tagliate qui vi faccio vedere dove sono i funghi dai perché sto facendo queste stradine per cercare di capire ecco di là andiamo a prenderli un intero vestivino insomma intero è uno così e niente oggi giornata dei lumacconi guardate che roba mamma guardate che bestias povero fungo povero fungo va bene dai uno bello dalla macchina eccolo qua bello di nascita dai vediamo diamo un'occhiata a sta tagliatina qua è poco più avanti da un bel giro di galletti guardate che bello cercano il caldo dai guardate qui sul sentiero orso c'è un altro galletto più su c'è un funghi tra l'altro altri galletti poi li prendiamo oggi è duro e duro e duro però dai pezzettino vediamo com'è insomma è decente è tutto il giorno che giriamo sono quasi le due dai abbiamo sei funghi macchina con questo 7 però ma forza di girare battere zone vediamo di tirar fuori qualcosina dai 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 che mi rincuora un po questo dai sempre in queste tagliatissime apertissime guardate che bello ah dai questo è già un signor fungo va bene e speriamo e speriamo di andare avanti dai ci sono dai 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 che ci sono dai che ci sono ragazzi poco lontano da quello la guardate questa che bella un buon volottino guardate che belli altro bocciottino qua ieri questi posti ci è passato il mio amico jan e quindi insomma è ovvio che quando si raccoglie il giorno prima poi il giorno dopo si fatica un po però dai qualcuno me l'ha lasciato guardate che belli che belli uno qui uno qui è mangiato perché le lumache lavorano guardate che colore è arrivato dai è arrivato il fugo del giorno fugo fantastico ora ve lo faccio vedere guardate che meraviglia peccato pochi eh pochi sudati guardate che roba guardate che fungo che raccogliamo dai guardate che che cosa bombolotto mangiato ma bombolotto va bene dai ancora uno bello veramente veramente bello sono rarissimi ma sono dei furiti ragazzi guardate che roba No, no, no allora sono arrivato qui in questa zona ho visto questo piano ho detto vabbè piano di faggio un po aperto c'è un po di sprazi di sole andiamo a vedere poi non vedo niente non vedo niente vedo due pini di giro intorno guardate cosa c'è lì ma guardate cosa c'è ci sono i pini cosa ci sarà un piccola e dei galletti fantastici guardate questo pinicola qui cos'è guardate che pinicola mamma mia eccolo qua dai fantastico allora oggi la battuta è stata abbastanza difficile perché ragazzi i funghi sono tutti localizzati anzi localizzatissimi se ti togli da quei fazzoletti dove nascono non c'è più niente nel bosco appena appena si chiude un attimo non c'è niente però dai non è andata male